Nessuna decisione sul candidato sindaco, ma la certezza, votata a maggioranza, che le primarie di partito non si faranno. E' questo l'esito della riunione del direttivo cittadino del Partito Democratico a Barletta avvenuta venerdì sera, nel quale la confusione regna sovrana in vista del voto amministrativo di giugno. La richiesta di celebrare le primarie di partito, così come previsto dallo statuto, presentata da 200 iscritti che sostengono la candidatura a sindaco dell'avvocato Giuseppe Bufo, è stata respinta a maggioranza. A metterla ai voti è stato il segretario cittadino Nicola De Fazio, che però ha presentato anche le dimissioni dal suo incarico. Decisione quella del direttivo, contestata proprio dall'avvocato Bufo, che aveva avuto l'incarico di sondare, nelle precedenti 24 ore, la possibilità di ricucire i rapporti con i movimenti di centro-sinistra. Missione impossibile che Bufo assicura stava comunque riuscendo a portare a termine. Operazione che però è sfumata dopo la riunione del direttivo, al termine del quale, oltre alla bocciatura per le primarie, sarebbe emersa la volontà di puntare sull'avvocato Maurizio Savasta come candidato sindaco. Il diretto interessato avrebbe manifestato la disponibilità ad accettare la candidatura a patto che sul suo nome ci sia la convergenza dei due consiglieri regionali, Filippo Calacciolo e Ruggero Mennea, i maggiorenti del PD barlettano. E se nel caso dell'ex assessore regionale all'ambiente non ci sarebbero veti da opporre al nome di Savasta, dalla parte del consigliere Mennea l'attesa sarebbe legata agli sviluppi del rimpasto nell'esecutivo pugliese, dove l'esponente barlettano potrebbe entrare tra i nuovi tre assessori previsti dal governatore Emiliano. In una situazione fluida e al tempo stesso confusa, resta sullo sfondo la posizione del dottor Dino del Vecchio, presidente dell'Ordine dei Medici della BAT. Il suo nome era stato il più gettonato nei giorni scorsi come possibile candidato sindaco del PD, anche se lui stesso non avrebbe gradito sino in fondo questo coinvolgimento che ha avuto l'unico risultato di bruciare la sua candidatura. Nei primi giorni della prossima settimana si dovrebbe chiudere il cerchio, mentre si lavora parallelamente alla creazione delle liste che dovrebbero sostenere il candidato sindaco del Partito Democratico. Anche in questo caso però la partita è tutt'altro che chiusa.